Quasi 200 kg di pesce sequestrato insieme a 40 metri di rete da pesca e sanzioni per un totale di oltre 22 mila euro per mancanza di tracciabilità di prodotti ittici e scarsa igiene. E' il bilancio dell'attività dei militari della Capitaneria di Porto di Portempedocle impegnata nell'operazione Springfish coordinata dalla Direzione Marittima di Palermo nel periodo compreso dal 21 maggio all'8 giugno che ha visto i militari della Guardia costiera impegnati in numerose controlli nella provincia di Agrigento. In particolare fanno sapere dalla Capitaneria sono stati sottoposti a verifica 37 strutture tra ristoranti, venditori ambulanti e pescherie. A 5 ristoranti sono stati combinate sanzioni da 1.500 euro ciascuno perché sprovvisti di idonea documentazione necessaria da testare la tracciabilità del pescato. Inoltre al titolare di un esercizio commerciale è stato elevato un verbale amministrativo di 1.000 euro perché è carente dei requisiti igienici imposti dai regolamenti comunitari. E' stato organizzato nel controllo congiunto tra i militari della Guardia costiera di Portempedocle e il personale della Polizia stradale di Agrigento che ha portato alla confisca di circa 90 kg di prodotto ittico a causa della mancanza della documentazione necessaria da testare la tracciabilità del pescato. Inoltre sono state elevate sanzioni amministrative per mancanza di autorizzazione sanitaria delle procedure di autocontrollo HCCP dell'idoneità termica dei veicoli per revisione scadute per mancanza della documentazione del mezzo per un totale di 15.525 euro. E ancora nell'area portuale di Licata aggiungono dalla capotelleria di Porto sono stati sequestrati contro ignoti circa 500 esemplari di ricci di mare la cui cattura è vietata nei mesi di maggio e giugno. In mare invece una moto vedetta accolto in neoflagranza, un peschereccio intento alla pesca sottocosta combinando al comandante armatore un verbale amministrativo da 4.000 euro e un verbale amministrativo da 2.000 euro perché privo delle registrazioni del pescato. Complessivamente nel corso di tutte le operazioni sono stati confiscati circa 193 kg di prodotto ittico, 40 metri di rete da pesca e sono state elevate sanzioni amministrative per mancanza di tracciabilità del prodotto ittico e per mancato rispetto dei requisiti previsti dal pacchetto igiene per un totale di 22.256 euro. Il prodotto ittico confiscato dopo un'ispezione effettuata dai veterinari dell'aspite agrigento è stato dichiarato non idoneo al consumo umano per l'impossibilità di verificarne la provenienza ed è stato destinato alla distruzione. Grazie a tutti.